Conoscendo le problematiche che riguardano i gruppi di attivisti che operano in internet tramite siti di terze parti, abbiamo voluto realizzare e mettere online un software open source per organizzare dei mitap ispirati alla democrazia diretta. Il software open source può garantire la massima trasparenza circa gli algoritmi che regolano l'attività della comunità virtuale. La piattaforma web messa a disposizione di tutti gratuitamente per codiudare l'operato degli attivisti, offre tutti gli strumenti per creare e gestire uno o molteplici comunità online, è possibile con una sola installazione gestire più comunità contemporaneamente, su domini differenti, il software è stato studiato per essere robusto e virtualmente indistruttibile, per questa ragione non viene fatto uso del database, quindi non ci sono nemmeno query che possono in qualche modo sovraccaricare il lavoro del server emetterlo offline, sono stati studiati ben tre potenti algoritmi contro gli attacchi informatici, e vi è presente un algoritmo antitroll che non trova uguali in nessun'altra applicazione web. Abbiamo messo a disposizione di tutti una piattaforma che rispecchia i criteri della democrazia diretta, gli iscritti possono votare e ricevere voti dagli altri iscritti, in questo modo otterranno un punteggio che varia da 1 a 5 stellette, questo punteggio assegna il privilegio di agire in qualità di moderatore. Il sistema è studiato in maniera che nessun moderatore possa agire singolarmente, ogni decisione necessita di un quorum minimo di 7 stellette, questo significa che ogni intervento deve essere preso in concertazione tra più moderatori. Per evitare attacchi alla privacy da parte di hacker, il software non permette la messaggistica privata, in questo modo si evita che la corrispondenza conservata sul server possa finire in mano di pirati malintenzionati per farne un uso illecito. Non è possibile scrivere nel form la propria email in chiaro, in questo modo i robot che perlustrano la rete non potranno fare incetta degli indirizzi email degli iscritti per poi utilizzarli facendo spam. La nostra piattaforma web è stata progettata in modo da essere altamente performante, non avendo il database può supportare un traffico di rete 100 volte superiore a qualsiasi altra piattaforma analoga, inoltre il sistema funziona anche in configurazione multiserver, in modo da reagire a qualsiasi ingente traffico dovuto all'utenza. Il software è addirittura di tipo portatile, ovvero funziona anche senza installazione, semplicemente scompattandolo in locale. Abbiamo messo a disposizione di tutti, una piattaforma indipendente, gratuita, facile da utilizzare, in grado di permettere a chiunque di organizzare dei gruppi di discussione basati sulla democrazia diretta, senza dover sottostare a siti web il cui funzionamento è dubbio. Per una comunità, dover sottostare ad un determinato sito web senza saperne i meccanismi e ciò che accade dietro le quinte, può essere un elemento di vulnerabilità talmente grande da poter penalizzare l'impegno di tutti i partecipanti. Noi abbiamo messo a disposizione di tutti gli attivisti uno strumento solido, invulnerabile, gratuito, a prova di pirati hacker, e siamo sempre disponibili ad apportare prontamente qualsiasi modifica seguendo i vostri suggerimenti. Potete scaricare e utilizzare gratuitamente la nostra piattaforma web, ogni suggerimento da parte vostra sarà gradito. Stiamo lavorando per voi.